Decine di persone senza stipendio, da agosto e senza lavoro da ottobre. Preparatori atletici, struttori dipendenti, addetti delle pulizie e baristi. Il loro Natale è stato molto amaro. La questione è quella degli impianti sportivi di Santa Barbara, punto di riferimento per tutta la regione, con una piscina, campi di calcio, pista di pattinaggio, una palestra. Una struttura frequentata regolarmente da 4.000 utenti. Il centro sportivo dell'Aquila è chiuso dal 10 ottobre, dopo la fuoriuscita di cloro dalla piscina che era gestita dalla società Verdeacqua Smile, su cui è in corso un'inchiesta e che si aggiunge a una vicenda giudiziaria che si trascina da anni. L'indirizzo dell'amministrazione comunale è quello di pubblicare un bando di gara definitivo sia per l'assegnazione dei lavori necessari a ripristinare la funzionalità della struttura, sia per assegnare la gestione. Una soluzione che però per i sindacati prolungherà i tempi di riconsegna degli impianti. La situazione, spiega il segretario provinciale della CGL, Francesco Marrelli, rischia però di degenerare fino al licenziamento di tutti i dipendenti. Guardate, in questo momento noi abbiamo una condizione di criticità massima, considerando che stiamo parlando di 18 lavoratori a tempo indeterminato, di cui sei diversamente abili. Abbiamo altri 14 collaboratori sportivi, che sono senza stipendio dal mese di agosto, che vuol dire 5 mesi, entriamo, stiamo entrando anche nel sesto mese, perché siamo a gennaio, in una condizione dove la piscina è chiusa al 10 ottobre 2018 a causa di uno sversamento di cloro. Lì c'è stato un intervento da parte degli organi preposti, dove hanno fatto una relazione all'amministrazione comunale, chiedendo di intervenire su alcune prescrizioni. Noi oggi siamo ancora in attesa, affinché si possa finalmente riattivare la funzionalità dell'impianto e di collocare i lavoratori al lavoro. In questo momento noi abbiamo tutti i lavoratori ancora in forza. Alcuni contratti stanno scadendo, in una condizione tra l'altro dove noi chiediamo l'istituzione di un tavolo di coordinamento e programmazione, finalizzato anche alla verifica del bando, perché a che cosa serve oggi il bando? Serve innanzitutto all'inserimento della classe sociale di salvaguardia per dare continuità lavorativa ai tanti lavoratori che hanno prestato la loro opera all'interno del vecchio gestore. Tempi che saranno ancora più dilatati anche per il ripristino della piscina, che dopo mesi di inattività subisce dei danni che devono essere poi recuperati. Senza un impianto è diventato difficile perché dobbiamo pregare le altre strutture di avere un piccolo spazio che sono tutte quante ormai al collasso perché una piscina grande come quella di Santa Barbara ha chiuso per cui tutti i nuotatori, tutti quelli che la frequentavano si sono riversate nelle altre strutture con le proprie società per cui per noi comincia a diventare difficile.